salve amici rino scorpione quest'oggi ho questo alimentatore dell'amico peppe in catanzaro un alimentatore che se ne vedono pochissimo meglio forse è la prima volta che vedo questo prodotto qua arriva dalla germania quindi è molto affezionato questo mio cliente su questo alimentatore perché ce l'ha da molti anni quindi mi diceva che aveva cambiato il finale il 2n 30 55 il quale io stesso gli avevo dato però non gli funziona quindi lo apro e vediamo un po quello che quello che c'è da fare a dopo per comodità ho tolto il circuito perché di fatti il finale è bruciato poi vi spiego il motivo e qua ho trovato un transistor in dispersione e meno male che ne ho qualcuno ancora nuovo immacolato questo è un 2n 30 19 per fortuna ancora qualche componente vintage e niente il motivo qual è stato perché il mio cliente ha messo mano si si era bruciato il finale a suo dire quindi quando ha messo quello nuovo che io stesso gli ho fornito e l'ha montato male perché un conto è mettere l'isolante qua un conto è mettere l'isolante da questo lato qua eccolo qua oltre all'amica l'amica quella si ci vuole d'accordo però cosa succede succede che in questo caso già che questo contatto va a finire sul collettore no dunque e il mio cliente aveva messo gli isolanti da questo lato come da questo lato come questo che ho lasciato sotto significava che il collettore che poi è un positivo andava a finire sullo chassis e quindi sulla carcassa dell'alimentatore e non andava a fare contatto sullo reale collettore della del finale del 2n 30 55 motivo per cui si è bruciato pure questo pre finale chiamiamolo così del del circuito ecco questa è la motivazione per la quale l'alimentatore nonostante io gli abbia dato il finale nuovo e anche perché ne ho pochi ancora non è che quanto ne posso avere di quelli ovviamente buoni e non funzionava per questo motivo insomma quindi metto questo transistorino metto il finale nuovo ricablo tutto e vediamo se funziona a più tardi ecco alimentatore riparato passiamo alla prova finale a dopo eccolo qua prova finale sto alimentando un vecchio alan a 68 originale metto portante io ho collegato il tester in ampere ola 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 punte di 1,2 ampere il cb sta erogando i suoi 4 watt reali ola 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 originalissimo quindi lavora bene anche se questo alimentatore può sopportare fino a un massimo di 6 ampere quindi tutto risolto per l'amico peppe in catanzaro rino scorpione vi saluto la e e e